This one is rapping, oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I would... E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del nostro Free Time Joe E Johnny che abba gli accidenti a lui di là Allora, benvenuti in questo brevissimo video, sarà brevissimo E' solamente un breve sondaggio che vi lancio riguardo la mia serie, la mia playlist Vite Sportive Io voglio lasciare a voi, ragazzi, la scelta sulla prossima vita sportiva da trattare Vi do due scelte, voi sceglierete tramite il sondaggio che vi lascio qui E io tratterò il personaggio che riceverà più voti Le scelte sono queste, la prima, Alex Zanardi, grande ex pilota di Formula 1 Oppure l'alternativa è Mike Tyson, famosissimo ex pugile Dalla vita molto tormentata da un certo lato La scelta è vostra, il sondaggio lo troverete qui in alto Mi raccomando, votate, io aspetterò qualche giorno Adesso in questo momento sta già per iniziare la prossima settimana Manca già giusto di mezzo il weekend e poco più Io ovviamente aspetterò fino alla settimana prossima Poi anche lì lascerò qualche giorno, aspetterò, andrò a vedere il video Guarderò che risultati ha avuto il sondaggio E in base a questi risultati porterò il prossimo video Ed ora in avanti sarà sempre così, questa è la novità Passando da una vita sportiva all'altra Ci sarà sempre il sondaggio Questo sarà il modo in cui procederò Praticamente vi lascerò il sondaggio Il personaggio che riceverà più voti Sarà quello che tratterò nel prossimo video di vite sportive Il prossimo episodio ancora, quindi quello successivo A quello del personaggio con più voti Sarà il personaggio che ha ricevuto meno voti Non lancerò immediatamente un altro sondaggio Ma prima porterò l'alternativa del sondaggio che ha avuto meno voti Dopo quell'alternativa, allora sì, ci sarà il sondaggio nuovo con altri due personaggi E voi sceglierete e io procederò di conseguenza Capito? Sarà sempre così l'ora in avanti in vite sportive Perché desidero rendervi partecipi Voglio che voi partecipiate e che abbiate delle scelte da fare E che in base a quelle scelte si modifichi, diciamo, l'andamento della serie E quindi questo posso fare La sola scelta che posso darvi è questa Che personaggio trattare Bene, voi avete questa responsabilità In base a essa continuerò Grazie per la visione Ci vediamo al prossimo video di qualunque genere Ciao ragazzi Ciao Con due mani addirittura Che stifo che fa così Ciao